vinto insieme mi ha detto di no, non è certo una buona prospettiva, però se riuscissero grazie a giocarsela così, allora potrebbero anche diventare imbattibili. Facciamo però attenzione perché c'è il numero 6 di Tapiz, l'allievo della scuderia di Carla Bosco che è ben guidato da Michele Becchis, che è un cavallo che ha una buona regolarità dalla sua parte e che sta andando molto forte. Attenzione anche al numero 2 di Toga degli Olivi che deve essere per forza e sarà sicuramente una delle cavalle più appoggiate al gioco e chi cerca la quota grossa potrebbe provare il numero 7, il numero 7 di Edge Griff che è un cavallo che è rientrato la volta scorsa dopo un anno e mezzo circa di assenza dalle corse, è un cavallo molto particolare purtroppo nelle sue corde alla rottura come ha fatto nell'ultima occasione. C'è da dire che era un'altra categoria, qui sale leggermente, ma c'è anche da dire che avrebbe vinto perché ha sbagliato a 20 metri dal palo una corsa già vinta e avrebbe fatto in quell'occasione una misura attorno a 15,5, quindi una misura di rilievo, ripeto soltanto per chi ama la quota e che vuole rischiare perché se no i favoriti sono i tre che hai citato prima. Top Fistetuala 1,90, Tapissa 2,25 e chi cerca il quotone è come ha detto Elisabetta numero 7 offerto a 13 vincente, 13,50 per una piazza. Bene, passiamo alla seconda corsa, una condizionata per cavalli di due anni, sicuro sui 1600 metri, c'è una cavalla che debutta, Venus FKS, ha fatto una prova di qualifica a Modena il 6 settembre facendo 1,18,5, andiamo con questa allieva di goccia d'oro? Ma sì, goccia d'oro come vediamo comunque ha tutta la scuderia in ordine, in particolare con i cavalli e le cavalle giovane sta facendo veramente molto bene. Questa è molto chiacchierata, ho visto che già ieri sera in internet era citata da più persone, persone comunque più che competenti per quanto riguarda il nostro settore, quindi dobbiamo metterla assolutamente. Facciamo però molta attenzione anche al numero 6, scusami, di Value Wise AS, sarà guidata da Andrea Guzzinati anziché da Pippo Gubellini che sarà sostituito in entrambe e due le corse da Andrea Guzzinati, secondo me questo numero 6 di Value Wise AS può essere un soggetto minaccioso, aveva corso a Cesena debuttando e facendo comunque un piazzamento nulla di che, adesso rientra ma è un cavallo che è chiacchierato nelle scuderie, quindi io ci farei molta attenzione e come terzo cavallo metto il numero 4 di Vivian Girl, la cavalla di Roberto Vecchioni, ma attenzione al numero 3 di Video Club, perché prima io ho intervistato Fabrizio Fiorino e si è dato comunque fiducioso nella sua allieva, in una corsa dove i favoriti sono come abbiamo detto Venus, FKPS e Value Wise, però facciamo attenzione anche all'allievo di Max Castaldo che chissà, è lì forse magari un po' di quota un po' più intrigante ci dovrebbe essere. Sì, è doppia cifra, è a 13 vincente, è a 4 piazzato. E allora lasciamo la seconda corsa, dedichiamoci alla terza, una condizionata per cavalli di 4 anni, si corre sui 1600 matri e non mi sembra che ci sia proprio un cavallo base della serie Elisabetta, aiutaci tu. Eh no, aiuta, ho bisogno che qualcuno aiuti anche me, è veramente è veramente, veramente bella, io ancora adesso ero qui nelle scuderie e stavo parlando un po' perché ci sono un paio di corse qua a Torino oggi che sono veramente belle e molto intriganti, quindi credo che i nostri amici si divertiranno a scommettere, questa è sicuramente una di quelle. Allora ci ritroviamo al numero 1 di Torgual, Orgarellert, Roberto Vicchione, binomio che mai conosciamo, è un cavallo che comunque all'ultima non c'entra a bersaglio, ma precedentemente veniva comunque da delle belle prestazioni vincenti e quindi sicuramente è pericoloso. Il numero 2 di Tuxgriff, l'allievo di Santo Mollo, all'ultima sbaglia, è un cavallo che tira, è un cavallo molto ardiente, ma come ha dimostrato ha veramente molto motore. Tito Ross potrebbe essere uno di quelli pericolosi che si potrebbe inserire tra i due litiganti il terzo gode. Ticino, l'allievo di Marcos Morgon, viene da una serie di secondi a non finire e sarebbe anche la volta che vincesse. Tanner Fiore, l'allieva di Luca e Marino Lovera, io ho sentito il team prima, sono molto fiduciosi anche perché la cavalla sta correndo bene, la categoria è tosta, però loro mi dicevano, lei ha uno spunto micidiale, visto che comunque sarò sicuramente nelle retrovie, farò attenzione e potrei anche essere uno di quelli che li mette tutti d'accordo. Tuono di Venere che tra parentesi ha la variazione dei feri perché correrà completamente sferrata, viene da una bella vittoria fatta ad Albenga. Riassumendo, io credo che i favoriti devono essere Torgual, Tax Griff e Titan Ross con la sorpresa del numero 5 di Tanner Fiore. Chi vince? Però se mi chiedi un vincente netto, sono sincera, mi metti in grossa difficoltà. Allora ti dico le quote, 1, 2, 3, 1, 2, 3, allora il primo è fatto a 3, il secondo a 1,70 e il numero 3 a 4, queste sono le indicazioni dei primi tre numeri o quelli che potrebbero essere i patabili di questa prova. Lasciamola, per dedicarci alla quarta è una condizionata per cavalli anziani, si corre sui 1600 metri, ci sono i gentleman in sediole, qui c'è una cavalla sferata di 4, c'è Marco Castaldo in Sulchi al numero 7, Shaft Cam offerta 2 alla pari a quota fissa. Senti, il numero è pessimo, però la cavalla secondo me in questa categoria ci sta, tra parentesi Shaft Cam è la sorella della cavalla che ti ho dato nella seconda corsa come sorpresa, ovvero Videoclub. Detto questo credo che nonostante il numero comunque c'è Marco Castaldo che ci penserà a trovare una buona posizione e cercare di venirne poi a capo. Non mi dispiace il numero 3 di Mayorkaff e come quarta moneta ci stanno veramente tanti, proviamo il numero 1 di Princess Will the Beep, perché è una cavalla che è sempre trascuratissima il gioco e invece comunque si comporta bene nel periodo. Io credo che per un piazzamento ci potrebbe stare, insieme anche al numero 2 di Mozart Bypass. Quindi diciamo che la trio potrebbe essere il numero 7 di Shaft Cam, il numero 3 di Mayorkaff con il numero 2 di Mozart Bypass. Perfetto, benissimo, allora lasciamo la quarta corsa, andiamo al centrale del pomeriggio di Vinovo, è la quinta corsa, una condizionata per cavalli di due anni, si corre su 1600 metri, una corsa veramente molto bella. E allora proviamo con il numero 2, Valent SF, cioè Vecchione in sediolo, offerto a 2, la pari a quota fissa, cavallo che ha debuttato il 3 di settembre a Cesena vincendo. E allora andiamo con questa indicazione? Ma guarda, questa è davvero veramente bella. Allora qua ci sono 3 cavalli che hanno, vabbè, poche corse loro attivo, però sono imbattuti. Numero 1 di vanguardia, Alessandro Gocciadoro, viene da una vittoria fatta a Milano. Valente SF anche viene da una vittoria fatta a Cesena. Mentre c'è Vaprio che ha comunque due corse a suo attivo e le ha vinte tutte e due, una a Montecatini, una a Modena, sempre con Enrico Bellè in sulchi e in questa occasione sarà guidato da Andrea Guzzinati. È una corsa veramente bellissima, anche perché al suo interno c'è anche Vittoria di Casei, l'allieva di Elvis Fessichelli che rimane su di una bella prestazione, che ha dimostrato comunque di avere qualcosa di buono nelle corde. Io personalmente forse come prima scelta proverai a andare su Vaprio, proprio per la scorsa di Vittoria che ha fino adesso e anche forse per come le ha fatte. Quindi io proverai a indicare il numero 5 di Vaprio sul numero 2 di Valente SF e il numero 1 di Vanguardia. Perfetto. L'ultima corsa che analizzerai è molto compagnia Elisabetta, è la sesta, si parte su tre nastri, 2060, 2080, 2100 metri e la base potrebbe essere numero 5, guidato da Tommaso Di Lorenzo, Picard del Ronco, 1,70 quota fissa. Allora, questa è una corsa sulla distanza del doppio chilometro, disposti su tre nastri. Picard del Ronco, che è un cavallo che nell'ultimo periodo sta veramente volando, ha ritrovato una nuova giovinezza e è un po' chiuso, perché comunque parte con il numero 5, è il primo cavallo del secondo nastro, quindi dovrà essere molto bravo Tommaso a cercare. C'è una cavalla che invece davanti potrebbe cercare di scappare via e metterla sul passo e poter rendere difficile poi il compito a quelli dietro. Sto parlando del numero 4 di Rinascita Ok, l'allieva di Andrea Guzzinati, una cavalla che sa partire molto svelta, potrebbe andare al comando e cercare di gecarsela così. Metto sicuramente il numero 5 di Picard del Ronco, perché nonostante il numero non lo posso lasciare fuori. E poi ci sono due cavalli che uno non sta correndo benissimo nel periodo, che è il numero 7 di One Love, ma alla classe dalla sua parte. E l'altro è il numero 8 di Pepe Vita, che dà 40 metri, quindi comunque il compito è abbastanza arduo per lei. Però è una cavalla che c'è sempre, lei ti stupisce quando meno te lo aspetti, poi è una cavalla che corre bene sulla breve che sulla distanza del doppio chilometro. Insomma, sei in giornata, è una di quelle molto pericolose. E quindi la mia trio in questa corsa è 4, 5, 7, 8. So for te, dai. Bene, senti, è bella anche la settima corsa, ma non ho tanto tempo. Io ti butto lì Uriel a 4 a stata fissa, potrebbe essere un'intuizione, anche la tua intuizione? Assolutamente. Sì, io la giocherò assolutamente. Uriel a 4 è un'ottima quota, perché comunque la cavalla sta bene, viene anche da una bella prestazione fatta in Francia, la distanza del doppio chilometro l'agevolerà sicuramente, nonostante la penalità dei 20 metri. Attenzione al numero 1 di Unirejet, e lo dirò sempre, attenzione a Union Perfect, perché secondo me è una cavalla che ha veramente dei mezzi superiore a tanti, soltanto che deve riuscire ad esprimersi. L'intuizione top della nostra Elisabetta, allora? No, allora, senti, io il cavallo del giorno di quota, sono sincera, non ce l'ho, però tu mi hai detto una cosa prima che mi ha, così, incuriosito, mi è balzata all'orecchio, quindi ci proviamo, io volevo darti un cavallo che pagava poco, invece tu mi hai detto che i video club a questo momento è a 13, e allora io lo provo. La seconda corsa è il numero 3, speriamo che porti fortuna a Fabrizio Fiorino, anche perché c'è una bimba piccola anche lui, quindi che salutiamo. E come io saluto la tua bimba meravigliosa, splendida, baci baci baci, ciao Elisabetta! Ciao Barbara, ciao a tutti!